buongiorno listerino c'è la zucca fresca non hai mai assaggiato la zucca fresca vero vai a vedere se ti piace bravo bravo bravissimo secondo me ti piace mi raccomando perché la zucca fresca fa molto molto bene poi quando si seccano ti do anche i semini ce n'è uno che è un po' più arrotato e poi gli altri arriveranno dopo però tanto i semi di zucca già tritavo di quelli più rocci invece la zucca fresca è una volta classe già e mi sa che come per una volta non c'è male come tutti i cibi assaggiati la prima volta ciao bosetto bello ciao bosetto mio ok e mi sa che ora torna a dormire ho fatto solo una capattina perché c'era l'uterno nuovo volevo vedere che così era vero? va bene bene buona altra è angista Grazie.